Il sindacato Sembrerà assurdo, ma è comunque uno stimolo, perché non ho nessuna intenzione di lasciare il sindacato. Quando lo fai, almeno per me, è stata una scelta di vita. E quindi da questo punto di vista, in altra forma, in altre veste, continuerò a stare nel sindacato. Quindi quello è una tappa. E' Luciano Falchi, ex dipendente della 1AR, tra i protagonisti delle grandi conquiste sindacali in fabbrica, uno dei tre premiati dalla Cisla alla militanza sindacale. Assieme a lui, omaggiata anche Giuseppina Tinti, che ha trascorso gran parte della sua vita all'interno della familiare, noto capellificio di Montevarchia, ed infine Bruno Menci, impiegato postale. Un riconoscimento conferito dal sindacato ad alcuni iscritti proprio in occasione della festa dei lavoratori. Valorizziamo quello che è stato il percorso sindacale, ma anche il percorso di associazionismo di queste persone. Sono persone veramente che hanno tantissimo da dire ancora oggi e da dare, perché sono persone, sì, in pensione, ma hanno un'esperienza molto importante. Magari non proprio tutti come militanza in termini di dirigenza sindacale, ma come militanza all'interno della propria realtà industriale e della propria fabbrica. Storie completamente diverse, ma che hanno un significato anche oggi, soprattutto per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, che purtroppo sono ancora pochi, perché il lavoro è ancora in una situazione complicata, il cercare lavoro è diventato difficilissimo, ma la realtà sindacale, il nostro lavoro come organizzazione sindacale è fondamentale ancora oggi. Qual è il valore di questo premio e soprattutto cosa ha significato la lotta sindacale? La lotta sindacale? Quante e tante a Monteparri, tante lotte. Si è causato la strada, siamo stati per la ferrovia dappertutto, si è fatto tutto. Ma è una cosa che si rimane colpiti, è una cosa che si emoziona, via.